I nuovi accordi della Russia La finanza amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi Benvenuti ad un nuovo episodio della finanza amichevole Sono trascorsi più di tre mesi dall'inizio del conflitto in Ucraina e delle conseguenti sanzioni verso la Russia In questo momento, quali sono i nuovi accordi raggiunti o possibili dalla ex Unione Sovietica in materia di esportazioni di materie prime? Partiamo analizzando la fase iniziale del conflitto L'inizio delle sanzioni e il contraccolpo sulle quotazioni del rublo nei confronti del dollaro americano e dell'euro Sospensione delle quotazioni della bolsa russa All'orizzonte si faventava quello che poteva essere uno scenario di default della Russia e delle principali aziende in tema di rimborsi per i detentori di obbligazioni Le sanzioni sono state la strategia dell'Europa e degli Stati Uniti per metterle in difficoltà dal punto di vista economico Facciamo un aggiornamento a livello di andamento sulle variazioni del rublo e sul prezzo delle materie prime durante la guerra Dopo un primo forte contraccolpo e con vistosi cali il cambio del rublo verso dollaro americano è in rialzo del 37% ha un valore più alto rispetto al periodo precedente il conflitto Questo rialzo è dovuto prevalentemente alla decisione da parte della Russia di farsi pagare le forniture di gas in rubli Decisione che ha costretto molti paesi e aziende in questa fase ad adeguarsi a questo provvedimento per potersi rifornire Per quanto riguarda le materie prime, in questi tre mesi gas naturale a più 92%, gasolio più 45%, petrolio WTI più 29%, petrolio Brent più 27%, grano più 25% comunque diminuito rispetto ai massimi raggiunti, mais più 14% Questi aumenti, come sappiamo, hanno avuto un forte impatto sull'inflazione e di conseguenza sulla gestione dei tassi delle banche centrali e sulle prospettive di crescita economica dei singoli paesi che tra l'altro erano già fortemente colpiti dall'avvento della pandemia Adesso si presentano nuovi scenari sulle strategie e sulle nuove gerarchie economiche a livello mondiale Proprio a notizia di questi giorni, forse come era prevedibile la Russia sta sviluppando accordi commerciali per l'esportazione di materie prime verso Cina, India e Emirati Arabi I primi due sono paesi fortemente dipendenti dalle materie prime provenienti da questo paese e verranno utilizzate nuove tratte per il trasporto al posto di quelle utilizzate sino ad oggi Inoltre, altri potrebbero diventare fornitori ed essere avvantaggiati da questo conflitto come il Sudafrica, oltre ad alcuni paesi dell'America Latina e del Medio Oriente Ricordiamo che la Russia esporta il 10% totale di greggio nel mondo e il 6% di gas Esporta palladio per il 45%, platino per il 15% e fertilizzanti per il 13% Mentre l'Ucraina esporta il 10% di grano al mondo mais per il 14%, orzo per il 17% e il 51% di olio di semi di girasole Analizzando il report del 2015 da parte di ESPAS cioè lo European Strategy and Policy Analysis System su quelle che sarebbero state le tendenze europee e mondiali sino al 2030 e su quelle che sarebbero state le sfide che l'Unione Europea avrebbe dovuto affrontare emergevano già sette anni fa molte incertezze Per quanto riguarda l'Europa la difficoltà nella capacità di cambiamento e nell'accumulo di rischi il riassetto dell'economia attraverso la rivoluzione tecnologica la realizzazione di una rete energetica paneuropea e conseguentemente la difficoltà nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento la fine del mercato libero dei capitali il futuro dell'euro senza riforme strutturali le conseguenze dei troppi legami per il commercio e gli investimenti con gli Stati Uniti gli accordi di libero scambio con Cina e Russia sul fatto se l'Unione Europea poteva essere considerata un punto di riferimento il futuro della Nato la frammentazione dell'Unione Europea la leadership dell'Unione Europea a livello mondiale e anche la precarietà interna all'Unione ed energetica Per quanto riguarda invece le incertezze mondiali i rischi sistemici legati a paesi emergenti con una crescita mondiale in stallo una possibile recessione economica in Cina e le eventuali conseguenze sistemiche i cambiamenti nella ripartizione dei flussi di investimento gli impatti dovuti ai cambiamenti climatici lo stallo della globalizzazione e la geopoliticizzazione del commercio il drastico riallineamento a livello geopolitico mondiale l'ascesa di nuove realtà a livello economico e poi anche il terrorismo, le tensioni politiche e l'instabilità oltre alla lenta crescita come detto si parla di un report relativo al 2015 che evidenzia incertezze oggi diventate realtà la pandemia aveva già stravolto e in parte compromesso la crescita economica a livello mondiale il conflitto ha ulteriormente complicato la situazione forse, come era immaginabile questo conflitto farà da acceleratore a quelle che sono le gerarchie mondiali e che probabilmente vedrà sconfitti i paesi europei troppo dipendenti e importatori di materie prime e come detto, senza una politica comune il futuro vedrà un rafforzamento di valute diverse dal dollaro e euro? aumenterà ancora di più la differenza tra paesi esportatori e importatori di materie prime? ci si dovrà abituare a un'inflazione sempre presente dopo l'inflazione quasi a zero degli ultimi anni? l'Europa sarà la grande sconfitta e subirà una colonizzazione economica? gli Stati Uniti, come previsto perderanno lo status di prima economia al mondo? tutte domande che forse hanno già una risposta la globalizzazione ha funzionato sino a ieri da oggi forse torneremo ad una fase di economie meno collegate tra loro come era sino agli anni 90 quello che sappiamo è che il cambiamento è in atto sarà forte e stravolgerà i processi sotto questo aspetto mi ricollego a un episodio relativo a un articolo che ho scritto nel 2014 la colonizzazione dell'Italia che può essere allargato adesso anche all'Europa siamo proprio sicuri che non ci siano state le avvisaglie negli ultimi dieci anni per poter invertire la tendenza? nel vecchio continente ce la siamo cercata la citazione di oggi è la seguente non si può risolvere un problema con la stessa mentalità che lo ha creato occorre cambiare mentalità Albert Einstein rendiamo la finanza amichevole vi aspetto potete ascoltare questo podcast sulle principali piattaforme disponibili i quartieri delle nostre città sono ricchi di storie come quella della famiglia Galluzzi che porta avanti la sua piccola bottega di pesce dal lontano 1894 o come quella di Viviana che con la sua pasticceria aiuta tante donne vittime di violenza sono Petra Loregian e insieme ad American Express ho avuto la fortuna di incontrare alcuni piccoli esercenti che hanno reso grande il nostro paese scopri le loro storie nel podcast Shop Small Great Stories